In quell'area ci stiamo adoperando per cercare dove è possibile, parlo dell'area quartiera Angarano in generale, di trovare altri parcheggi. Dei passaggi in avanti, proprio in collaborazione con i commercianti, li abbiamo fatti su via Angarano, in cui sono stati ricavati anche in vista del cantiere del ponte maggiori parcheggi. Ci sono delle possibilità ad oggi, non ancora concretizzate, di poter fruire anche del parcheggio dell'ex-Enel e noi siamo attenti che ogni progetto di riqualificazione che ci venga presentato preveda lì un parcheggio pubblico che darebbe un certo sostegno alle attività commerciali, ma anche ai teatri mondini. Abbiamo, grazie anche alla Regione, fatto la convenzione sempre con i commercianti per tenere aperto tutti i giorni, anche in fine settimana, il parcheggio, chiamiamolo ex-INAPLI, ex-CFP, per cui l'attenzione su Angarano per poter prevedere la sosta delle auto c'è. Ovviamente la situazione è abbastanza critica perché gli spazi non sono infiniti, ma ripeto, in quel particolare tratto di via De Diaz non cambia assolutamente nulla rispetto a come era prima.